ciao allora benvenuti nel video delle scoperte del mese e direi di iniziare subito con questo prodotto della essence questo è uno smalto indurente si chiama ultra strong nail hardener advanced care è questo qui ok allora ho fatto fatica a leggere le istruzioni linci perché erano sotto questa etichetta enorme comunque sia ho letto tutto è uno smalto indurente che non contiene formaldeide e questa è già una cosa positiva se riesco ad aprirlo vi mostro lo spazzolino che questo qua è piccino ma abbastanza comodo è un classico smalto indurente neanche troppo però più rinforzante aiuta a proteggere a rinforzare le unghie non contiene formaldeide ha un leggero effetto lucido una volta steso asciuga velocemente che è una cosa ottima leggero effetto lucido quindi va bene anche da tenere da solo ho visto che non è che rinforza più che altro le unghie male protegge quindi piuttosto che niente è meglio questo che è leggero e delicato a un colore lucido ma non troppo e comunque le protegge dalle agressioni esterne o dagli urti ed è meglio di niente sicuramente il prezzo che non vi ho detto l'ho segnato 8 ml viene 1 euro e 95 altra cosa super positiva e cos'altro dire ah sì come base per base per metterci sopra smalto colorato è buona perché lo smalto colorato aggrappa non tende a staccarsi e comunque sia il pigmento non va a finire sull'unghia quindi promosso 1 euro e 95 sicuramente ben spesi andiamo avanti con questo prodotto della collagenil allora devo dire che se vi ricordate questo marchio lo avevo bocciato aspettate che c'è sempre cose che passano lo avevo bocciato in vari prodotti ma loro sono stati gentilissimi che mi hanno chiesto intanto il mio tipo di pelle l'età le esigenze e mi hanno mandato dei prodotti adatti alle mie esigenze e questa è una cosa che sinceramente ho apprezzato infatti questo che ne avevo due quindi l'ho provato per un po' eccolo qua dunque è il bio longevity serum quindi il siro attivatore di giovinezza che è ve lo mostro questo qui ok io avevo due campioni da 2 ml l'uno dato che è un siro e bello leggero mi è durato anche parecchio ho segnato il prezzo perché 30 ml viene a prezzo pieno 52 euro 80 ma online si trova anche a 36 e 90 ho visto più o meno su amazon quindi da tenere d'occhio allora siro viso che io amante dei sieri questo l'ho apprezzato perché è leggero ha una texture bella fluida bella leggera si stende bene sul viso si assorbe immediatamente e durante il giorno non mi lucida la pelle quindi posso tranquillamente andarmi a truccare che non mi crea nessun tipo di problema non mi crea macchie di colore ad esempio se mi trucco e tiene la pelle idratata ma comunque sia non la secca tiene idratata e non me la lucida cosa che mi è piaciuta davvero tanto oltretutto è dato che più o meno usata tutte le mattine una confezione mi è durata 5 6 giorni quindi facciamo due settimane di trattamento più o meno e ho sentito un leggero effetto rimpolpante e tensore che sente al tatto ma non è visibile comunque sia è un buon prodotto a me è piaciuto sinceramente e se lo trovo in promozione ancora migliore comunque sia lo tengo d'occhio potrei anche pensare di ricomprarlo ultima scoperta per questo mese vi parlo di questo prodotto della crastase e laura botanica maschera fondamentale riche quindi con olio di noce del brasile d'amazzonia 98% di origine naturale allora è un prodotto che devo parlarvele comunque è questo e si tratta quindi di una maschera per i capelli io avevo intanto due campioni da 15 ml l'uno e ognuno l'ho usato per tre volte quindi 3 e 3 6 applicazioni dunque è adatta dice essendo la formula ricca è adatta per i capelli secchi quindi premetto io i capelli tendenti al grasso e quindi non fa per me ma comunque sia ho trovato che fa il suo lavoro prezzo l'ho visto su amazon 200 ml 28 euro e 50 allora come lo applico una volta lavati i capelli tamponati lo applico sulle lunghezze e sulle punte lo lascio agire il tempo della doccia e poi lo risciacquo si risciacqua facilmente lascia i capelli morbidi belli luminosi la piega è facile sono facili da pettinare quindi tutti i fatti positivi attenzione solo a usare poco prodotto perché tende a appesantire talmente tanto che si sporca velocemente 15 ml io l'ho fatto durare tre volte quindi 5 ml poco davvero proprio un dito di prodotto per volta ed è comunque ho visto che funziona pensate sei capelli secchi magari usatene un po' di più ma comunque sia fa il suo lavoro io sicuramente non lo ricompro perché non è adatto alle mie esigenze però funziona non posso dire niente ha il profumo buono buonissimo poi dopo con l'acqua calda in una doccia si diffonde buono davvero promosso perché funziona non mi piace a me ma un'altra cosa oltretutto ho notato che l'inci non è nemmeno male quindi pensateci un attimo nel caso vi piacciono i prodotti professionali perché il carastase è da salone da parrucchieri comunque sia allora queste erano tutte le scoperte del mese fatemi sapere se avete portato qualcuno di questi prodotti e come siete trovate vi ricordo di seguirmi anche su instagram perché li pubblico le first impression quindi i prodotti che magari ho un piccolo campione o uso per una o due volte lo pubblico lì senza fare un video dedicato perché sono davvero solo prime impressioni se vi è piaciuto questo video e vi sono stata utile mettete un like iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così volete avvisata ogni volta che carico un nuovo video e la prossima ciao